ciao come vi chiamate filippo e tu filippo e tommaso state mestamente disarmando la barca perché non si regata da dove venite milano ma speravate di regatare obiettivamente sì che speranza avevate di fare un po di acchiappare questa qualifica l'ultima che c'è a disposizione no per noi è un allenamento questo non tanto una qualifica perché non sono così forti quindi tu non ti aspetti tanto di fare il miracolo della qualifica però ogni regata mi serve di allenamento avete cominciato a gennaio tra l'altro penso che lui sia il più giovane della flotta infatti lui è più giovane tra l'altro abbiamo visto anche regatare abbastanza bene comunque per essere giovane no il weekend precedente sempre qui a Ravenna quanto vento c'era sei nodi non lo so vento leggero ma abbastanza per regatare secondo me rispetto a formia abbiamo fatto molti miglioramenti pian piano andando avanti per questo peccato che non abbia regatato perché così magari non so quale sia la prossima regata però saremmo andati meglio forse quindi ogni regata serve per andare meglio alla prossima sì esatto bravi ragazzi ciao a domani